Professoressa Nosi, lei ha presentato oggi questo studio sui Millennials al Consiglio Nazionale FIAIP, ci può anticipare qualche dato? Abbiamo presentato i primi risultati della ricerca, innanzitutto la rilevanza di questo segmento di mercato, i Millennials, appunto nati tra il 1980 e il 1999, che rappresentano circa il 34% dei potenziali acquirenti di casa e il 36% degli aspiranti locatari, quindi un segmento rilevante da un punto di vista mercatistico. Emerge tra l'altro che nutrono particolare fiducia nella figura dell'agente immobiliare, questo perché danno una rilevanza particolare alla relazione umana. Mentre avevamo pensato che sarebbero stati un po' più tecnologici, avrebbero fatto più ricorso appunto a internet, ad altre fonti di informazione, mediate, in realtà sembrano prediligere il rapporto umano e la fiducia appunto che può ispirare l'agente immobiliare.